Salve a tutti amici di Marcosbox, ben ritrovati e benvenuti nel consueto appuntamento settimanale con il riassunto della settimana, con tutte quante le notizie che sono state postate su Marcosbox da me e dai miei soci. Questa settimana è stata particolarmente ricca di notizie, notizie riguardanti soprattutto il mondo della telefonia e il mondo del gaming. Cominciamo con la prima notizia, che riguarda il tanto atteso rilascio del primo device equipaggiato con Ubuntu Touch. Dalla Cina sono arrivate una serie di immagini che mostrano il Meizu MX3 equipaggiato con Ubuntu Touch o Ubuntu Phone OS, come volete chiamarlo voi. Ad accompagnare le immagini è apparso anche un piccolo video di un minuto circa che appunto mostra in azione il sistema operativo di casa Canonica su questo device. Non ci sono state ancora conferme da parte di Canonical, conferme che probabilmente arriveranno nelle prossime settimane in concomitanza con il Mobile World Congress. Restando in casa Ubuntu, c'è una notizia che potrà fare la gioia di molti di voi. Sta per arrivare la Torrent Lens. Che cos'è la Torrent Lens? È una nuova Lens che probabilmente verrà integrata in Ubuntu 14.04, sempre se verranno mantenute la tabella di marcia. Questa Lens consentirà di ricercare file torrent direttamente dalla Dash di Unity. Quindi arricchirà ancora di più le possibilità offerte dalla ricerca di Unity. Il motore sul quale si basa attualmente il prototipo è The Pirate Bay. Staremo a vedere se poi nella versione finale sarà quella il motore di ricerca predefinito. Passiamo adesso al mondo di Firefox OS. La prima notizia riguarda l'accordo con Panasonic per la commercializzazione di Smart TV equipaggiate con Firefox OS. Mozilla entra dunque in un settore nuovo che è però in rapida espansione. Basta ricordare i recenti WebOS montato da LG sulle proprie Smart TV o l'annuncio da parte di Philips di equipaggiare le proprie Smart TV con Android. Sempre dal mondo Mozilla arrivano interessanti notizie per quanto riguarda invece la commercializzazione di smartphone con Firefox OS. ZTE ha confermato il suo impegno e intende realizzare due nuovi device con Firefox OS. Attualmente non c'è nessuna scheda tecnica rilasciata però si presuppone che questi nuovi device alzino un tantinello la sticella delle prestazioni quindi con l'hardware più recente. Nel contempo sono anche iniziati i lavori alla Foxconn per la realizzazione del primo tablet equipaggiato con Firefox OS. Staremo a vedere come si comporterà Firefox OS e se riuscirà a decolare in questo 2014. Parliamo adesso di Valve che è stata sotto le luci dell'arribata durante il CES di Las Vegas. Sono ben donici le aziende pronte a commercializzare le Steam Machine. Tra queste spicca un nome in particolare ovvero Alienware è lo storico marchio di Dell legato al monto delle macchine per il gaming estreno. Chi di voi non ha sentito nominare questo marchio e chi di voi non ha mai voluto non sogno di metterci mano su una di queste macchine. Appunto Dell entra con Alienware all'interno del mondo delle Steam Machine. È presentato un prototipo andate a vedere le immagini. Parlando invece del cuore della Steam Machine ovvero Steam OS arrivano due notizie. La prima è un'indiscrezione un'indiscrezione riportata da un sito tedesco sul reale motivo per cui Valve ha preferito Debian e non Ubuntu come tutti quanti si aspettavano come base per il suo sistema operativo Steam OS. Stando alle indiscrezioni questo è avvenuto per evitare problemi legali cause legali dovute che avrebbero potuto coinvolgere Ubuntu e quindi di riflesso Steam OS. Non c'è dato sapere nello specifico che cosa qual è il motivo proprio il motivo reale. Si parla appunto generale di cause che avrebbero potuto coinvolgere. Molto probabilmente sono legate a Ubuntu che hanno alcuni hanno malignato che invece tutto questo sia dovuto al fatto che Canonica voleva qualche soldino per porre il suo bollino di qualità. Scopriremo poi nelle prossime nelle prossime mesi quale è la vera verità. Anche perché appunto questa è un'indiscrezione quindi nulla di ufficiale. L'altra notizia dal mondo Steam OS riguarda la nascita di Ye Old Steam OS andate poi a leggere come si scrive. Che cos'è? È un fork dal nome orribile e lunghissimo che sa alcune caratteristiche interessanti. È un fortissimo OS che aggiunge il supporto al BIOS non necessariamente Wi-Fi aggiunge il supporto al dual boot la possibilità di installazione da DVD o da chiavetto USB supporto alla virtualizzazione quindi supporto completo al virtual box boot VMWare spazio minimo richiesto di soli 40 giga a differenza se non ricordo ma dei 500 richieste da Steam OS è un supporto hardware esteso quindi davvero distro GNU Linux settimana poi c'è stato anche il rilascio da parte di di Ati dei primi driver specifici per Steam OS quindi si sta muovendo si sta muovendo si sta facendo tanta tanta attività a Steam OS quindi di riflessione beneficeremo anche i nuovi utenti Linux parliamo adesso di mappe e tutto quello riguardo il mondo delle mappe dal mondo OpenStreetMap è arrivato il consueto riassunto con tutte quante le ultime notizie di questa stupenda comunità di mappatori parli principali alcuni che mi hanno colpito è stata la nuova versione di Umap un nuovo interessante prototipo di planner di percorsi accessibili in carrozzine a Parigi è interessante vedere come la comunità riesca a metter su in poco tempo grazie alle informazioni derivate dai dati del mondo OpenStreetMap un sistema del genere che appunto è utile per tutti quanti i disabili che potranno sapere i percorsi consigliati per poter muoversi in carrozzina senza avere difficoltà appunto questo primo planner è stato fatto dalla comunità francese per quanto riguarda Parigi speriamo che si estenda anche in altre parti del mondo in Italia e l'ultimo interessante post che ho trovato interessante meno io è stata quella la possibilità di creare delle mappe utilizzando i video girati con la GoPro la GoPro è una famosa telecamera per gli sportivi e quant'altro che sta tanto andando di moda crestando nel mondo delle mappe c'è anche un interessante post su Mozilla Location Service che è un progetto nato in casa Mozilla per realizzare un servizio di geolocalizzazione open source molto interessante andatele a leggere in settimana poi ho fatto anche un piccolo post un pro memoria appello per tutti quanti i pinguini italiani come ben sapete a partire dall'8 aprile del 2014 Microsoft non fornirà più aggiornamenti per Windows XP questo che cosa significa? significa che gli utenti Windows XP saranno costrati a migrare su altri video ottenere su un sistema tra virgolette insicuro perché appunto non ci saranno forniti più aggiornamenti di sicurezza aggiornamenti di programma e quant'altro cosa potete fare voi pinguini? beh semplice pinguinizzare i vostri amici i vostri vicini di casa i vostri parenti che ancora utilizzano Windows XP voi sapete meglio di me quali sono le distro a disposizione di sicuro saprete scegliere la distro opportuna a seconda delle macchine quindi datevi da fare pinguinizzate il mondo cogliamo la parabazzo e sfruttiamo questa occasione per per diffondere la filosofia del mondo GNU Linux a tutti quanti quelli che ci sono accanto dal mondo di Red Hat arriva poi un interessante comunicato ovvero l'annuncio che sancisce la collaborazione tra Red Hat e la comunità di CentOS la comunità entra a far parte della grande famiglia Red Hat che come ben sapete annovera anche Fedora restando in ambito Fedora abbiamo il rilascio di Corora 20 Corora che cos'è? lo sapete è la derivata di Fedora che viene una derivata l'unica derivata di Fedora che ha come caratteristica quello di fornire già un sistema preconfigurato con ripositori aggiunti alcune chicche modifiche qualità programmi aggiunti e quant'altro mantenendo comunque la compatibilità con Fedora novità di questo rilascio sono principalmente il fatto che viene rilasciato per la prima volta con 5 varianti la versione con KDE quella con Gnome quella con Cinnamon quella con XFSE e infine quella con Mate l'altra grande novità è invece il rilascio di un nuovo tool chiamato Farp non riuscirò mai a pronunciare troppe R e troppe R vicine questo tool che è un fork di giochi che serve per la gestione dei driver proprietari quindi andatevelo a provare questa distribuzione a me non è che è tanto piaciuta però comunque potrà piacere ad alcuni di voi ultima notizia riguarda invece il mondo KDE la comunità ha pubblicato la roadmap di KDE 4.13 la nuova versione del desktop tanto amato da me stesso medesimo verrà rilasciata il 16 di aprile giusto in tempo per il giorno del mio compiliano quindi mi faranno anche un piccolo regalo di compiliano quindi non posso che esserne contento bene con questa conclusa l'ultima notizia della settimana ci vediamo la prossima settimana con tante notizie tante novità c'è in programma un editoriale di Rodrigo che poi andate a leggere e gunga vita e prosperità a tutti quanti e alla prossima settimana ciao ciao